Allora, inizio questa intervista dedicando questo passaggio del turno a Bay, che ha avuto un lutto improvviso nella notte familiare, quindi gli siamo tutti vicini, a lei e alla famiglia, che credo sia questo venga prima di tutto. Poi è giusto sottolineare che abbiamo finalmente raggiunto il traguardo dei quarti, siamo fra le migliori quattro squadre dell'Euro Cup e adesso si aggiungeranno le quattro squadre che scendono dall'Eurolega, quindi risultato straordinario che abbiamo centrato e adesso a marzo ci giocheremo le nostre carte con chi pescheremo. Grazie a chi è venuto e vi aspettiamo sabato per il campionato. Sulla partita oggi l'abbiamo voluta, è stata difficile ma lo si sapeva, ci siamo trovati senza Bay stamattina, non è una situazione facile, non si può regalare secondo me una straniera in Europa e loro ne hanno quattro. Nonostante tutto siamo stati là, non saremmo stati bellissimi, contava vincere, contava passare il turno e l'abbiamo superato, quindi bisogna guardare negli 80 minuti e credo che negli 80 minuti siamo stati più bravi noi di loro.